qui ci sono delle responsabilità politiche di tutti i partiti tranne il momento 5 stelle questa castità non ha governato lei è giovane ma io mi ricordo i discorsi di fini 25 anni fa e poi è andato a vendersi l'appartamento e poi noi non l'abbiamo fatto allora è inutile dire lo farete anche voi i fatti parlano i fatti dicono che negli ultimi 5 anni dopo mi risponderà esatto appunto quando governeremo ma voi avete avuto paura di governare non dovrei dirlo io quando governeremo se faremo le porcate che hanno fatto PD, PD, LN ci vedete qua a massacrare ma voi avete avuto paura di governare ma voi non ci volete governare io se conosco un delinquente a cena con lui non ci vado quindi se entro in parlamento per cambiare il parlamento non mi alleo col PD perché mi ha già dimostrato di essere un delinquente di partito è semplice, è lineare se tu vuoi cambiare le cose non puoi andare a braccio con i delinquenti e lei sta dando a tutti gli iscritti del PD del delinquente ai vertici politici del PD a chi governa e glieli posso dire tutti se vuole allora fa i nomi e i cognomi dei delinquenti che ritiene vado a guardare le indagini della mafia capitale col PD con un botto fino al collo ebbene allora faccia i nomi nella gestione dei centri di raccoglienza per i migranti e poi in Lombardia si chiedono le persone perché abbiano il perro chiede i nomi si chiedono in Lombardia perché abbiano il perro se mi fa parlare le parlo si chiedono in Lombardia se le mi fa parlare io dico i nomi si chiedono in Lombardia per quelli motivi c'è un problema dei migranti Buz si chiama Carminati due maggiori indagati della questione e fai una telefonata e dice aprile 2013 eravamo appena entrati in parlamento dice è un casino Grillo ha fatto fuori il PD i due maggiori indagati vuol dire che il Movimento 5 Stelle è l'antitesi della delinquenza e il PD è l'aleato politico dei delinquenti ma come si vergogna? questo lo dice la magistratura ma lei no lo dice la magistratura lo sta dicendo lei io mi vergognerei a militare in un partito che ha fatto di queste cose io mi vergognerei a militare in un partito che ha fatto di queste cose io mi vergognerei a militare in un partito che fa queste cose le responsabilità le dica e le attribuisca alle persone ma non passa un giorno che non ve ne arrestano uno non passa un giorno che non ve ne arrestano uno allora io alla pubblicità allora io ho vissi il darmo